io quando sono entrata la prima volta in chiesa c'avevo quattro anni e quindi ci fu quest'attimo che fu un incrocio di sguardi e da lì mi rapi il cuore nuova io dal primo giorno con già con me in arena mari sera in città per avere lo spirito saggesso guarda che giù dice la papina ma poi non c'è rullo schiava la mezza una grupe natti trenta ruba non va facita io ruba rosso da belli rose e torna maggio rosso da belli rose e torna maggio ciao Non è bello, vero? Vai, non c'è più panna, non c'è questo? Perché non ci dimentichiamo che Gesù da sopra la croce ha fatto santo a un ladro? Il buon ladro è un santissimo, l'ha fatto santo Gesù Cristo.